È il momento della finale, crew contro crew, 15 minuti per decidere chi vola in Germania per la finale del Battle of the Year 2013. Le crew sono che ci sono, avranno il fiatone, sono stanchi ma ci sono. Voi ci siete? Perché basta, fatemi sentire, tutta la vostra energia adesso, è il momento buono per tifare per i vasti pegnomini, per chi vi è più piaciuto durante la serata, tra i pick-on che si mettono alla destra della giuria e i last alive che stanno alla sinistra della giuria, queste due sono le crew finaliste. Ok, torno al console, Vigili Conaghan, declare me last alive, judges, they have 15 minutes. Un momento di concentrazione e poi si parte. E allora andiamo. Ragazzi, questa è la finale, il dance floor è tutto vostro, 15 minuti di DJ New Oregon, quando vuoi facciamo ripartire. Il dance floor è tutto vostro, 15 minuti di DJ New Oregon, 12 minuti di DJ New York, 15 minuti di DJ New York, 15 minuti di DJ New York, 15 minuti di DJ New York. Grazie a tutti. 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 Come on. Grazie a tutti. 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 Yeah. 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 Grazie a tutti.